Buona la prima del 2022, ovviamente il ritorno in campo dopo un mese sorride al Teramo che passa al Benelli 2-0 e guarda il futuro con rinnovato entusiasmo. I nuovi impattano alla grande e la sconfitta dell'andata è definitivamente cancellata. Guidi sceglie la coppia Codromaz pinto dietro risolvendo i pochi ballottaggi con Mungo e Bernardotto. Banchini manda in panchina sia Gucci che Sanogo scegliendo Accursi con Cannavò nel 3-5-2 che premia Manetta dietro insieme a Gavazzi e Cusumano. Nemmeno 120 secondi e De Grazia bagna il suo ritorno in bianco-rosso sfruttando la percussione mancina di un altro nuovo arrivato come Mordini e scaricando alle spalle di Farroni la rete del vantaggio Teramano. La reazione pesa resistente ad arrivare, Marcandella al diciassettesimo calciamale liberato da un corner corto di Denuzzo. Diavolo con maggiore freschezza mentre i padroni di casa tentano soprattutto con tiri dalla distanza. Ancora con Coppola deviato in corner e poi ancora con Marcandella la cui girata termina a lato non di molto. Ma che il pomeriggio sia di quelli positivi lo si capisce poco dopo la mezz'ora quando a Rigoni scodella al centro un piazzato che Bernardotto con una mossa da Karateca gira alle spalle di Farroni. Terzo centro stagionale per l'attaccante del Teramo che conferma la superiorità ospite che potrebbe essere tale da mandare la gara in ghiaccio addirittura all'intervallo se solo il recupero è sinistro del grande ex. Azi Osmanovic avesse maggiore precisione. Banchini cambia e lascia Cannavoi manetta negli spogliatoi per Derespinis e Piccinini ma è una visse diversa rispetto al primo tempo. Proprio Derespinis si gira e Peruchini disinnesca il diagonale prima dell'ingresso nel Teramo di Forgione per Rosso. Peruchini superlativo quando dopo l'ingresso anche di Gucci a quadro è miracoloso sul colpo di testa dell'attaccante da distanza ravvicinata imbeccato da Denuzzo. L'undici di Banchini non demorde specie col solito Marcandella che allarga troppo il destro dalla distanza al 69esimo. Per quanto ci provi però la visse si infrange contro il muro di una retroguardia quella del Teramo che si riscopre solida. A quadro al 72esimo spara alto la spizzata aerea di Derespinis mentre Forgione come De Grazia potrebbe festeggiare anche lui l'esordio con un gol con la girata un quarto d'ora dal termine quando il Diavolo è già passato a 5 dietro con Soprano al posto di Malotti. E così la spinta pesarese si spegne, complice anche il Rosso accuso umano nel finale. Il Diavolo blinda un risultato prezioso per i tre punti e per il clean sheet che rilancia la squadra di Federico Guidi. La prima trasferta va come meglio non si potrebbe. Ora una settimana, anzi otto giorni prima del Limolese ma soprattutto 22 punti che tolgono il Teramo dalla zona calda della classifica.